Entro la metà del 2021 la Baomark riassorbirà 110 lavoratori e altri 52 entro la fine del 2023. E' quanto emerge dal tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, a cui hanno partecipato la Regione Abruzzo, con gli assessori Febo e Fioretti, i rappresentanti del Mise, la Onewell, la Baomark e i sindacati. La Baomark, che proprio in questi giorni ha costretto allo sciopero i dipendenti dello stabilimento di Melfi, in Basilicata, produce macchinari industriali e appartiene al gruppo cinese Baowu Steel, il secondo produttore mondiale di acciaio. La Baomark ha acquisito l'impianto di atessa della statunitense Onewell, dopo che questa ha deciso di delocalizzare in Slovacchia. Il passaggio di proprietà, però, non è ancora stato formalizzato, dovrebbe concretizzarsi entro il 31 dicembre. Delocalizzando, la Onewell ha licenziato 330 persone. Queste adesso percepiscono la disoccupazione, indennità di cui presto però non godranno più, mentre le due società hanno accumulato notevoli ritardi sulla cessione. All'incontro a Roma ci si è accordati sul riassorbimento di 162 lavoratori nel giro di tre anni. I primi 20 dovrebbero essere assunti già nel primo trimestre del prossimo anno, così da riavviare subito la produzione. Degli altri 168 ex dipendenti della Onewell, invece, non è dato sapere. I lavoratori ora tendono di sapere se avranno un futuro nella Val di Sangro.